Siostock, ciao a tutti, vorrei leggervi la lettera di Orban Victor di oggi 25 novembre indirizzata a Soros Jörg, al suo blog Project Syndicate, che l'ha censurata, però prima vorrei ricordarvi di condividere questo video per aiutare il canale a crescere. Molti credono che il primo ministro non debba discutere con Soros, scrive Orban. Soros è un criminale economico, arricchito rovinando milioni di persone e ricattando nazioni intere. Così come i governi non possono trattare con i terroristi, così i primi ministri non possono discutere con i criminali economici. Tuttavia ora sono costretto ad intervenire perché Soros Jörg, miliardario di origini ungheresi, speculatore, ha scritto il 18 novembre su Project Syndicate un articolo in cui ha dato degli ordini ai vertici europei. Il comando è di punire duramente i paesi che non vogliono essere sotto la bandiera della open society e non vogliono essere parti del nuovo impero europeo.